Prosegue il confronto tra l'amministrazione comunale e il manager Ghelas Francesco Tranito con l'obiettivo di arrivare ad un'intesa che consentirebbe di disporre della società in house anche come centrale unica di progettazione. E' più di un'ipotesi a caldeggiarla già dallo scorso anno e anzitutto il sindaco Lucio Greco, anche negli ultimi giorni ci sono stati degli incontri. La volontà politica c'è, lo spiega lo stesso Tranito, il manager proprio lo scorso anno aveva provveduto alla pubblicazione di un avviso per la ricerca di professionisti di più settori che eventualmente collaboreranno con Ghelas anche in vista delle attività di progettazione. La struttura della Moltiservizi viene considerata una base importante per tentare di supplire a ciò che gli uffici comunali, anche per carenza di personale, non riescono a fare in termini di progetti finanziati con i fondi dei programmi regionali del governo e dell'Unione Europea. Anche gli incontri degli ultimi giorni servono proprio a capire come poter trovare la quadra, come spiega proprio il manager Tranito la ripresa delle valutazioni tecniche arriva mentre l'amministrazione comunale è impegnata a testare più fronti per arrivare a progetti strategici. Tranito intanto ha provveduto a confermare l'incarico tecnico all'architetto Vincenzo Cassarino, il professionista già da oltre dieci anni si occupa di coordinare gli aspetti rivolti alle attività e ai cantieri di Ghelas. Con l'incarico confermato dal manager ricoprirà il ruolo di direttore tecnico, direttore dei lavori, DEC, RSPP, responsabile del sistema di qualità e anche RUP.